Halloween alle porte e Gradara come ogni anno si prepara puntualmente a questo appuntamento. Tanti gli eventi in programma che si svolgeranno nel centro storico dal 30 di ottobre al primo di novembre. Tante le prenotazioni già arrivate e noi ora ascoltiamo le parole del direttore artistico che ha organizzato questo evento. Io vi aspetto perché ci sarà il borgo stregato, ci saranno tre giorni di intrattenimento. Il borgo è aperto a tutti, però all'interno ci sono degli spettacoli che sono rigorosamente a pagamento e su prenotazioni. Mi raccomando, iniziamo da questo racconto al mattino che è Mino il Fantasmino e poi passiamo al borgo stregato, uno spettacolo itinerante fino ad arrivare alla cena o al pranzo con Harry Potter. Insomma, tante tante cose e non solo perché poi all'interno del borgo ci saranno delle sorprese che non posso svelare, altrimenti voi come fate a scoprirle? Novità rispetto a due anni fa? Novità, intanto gli spettacoli itineranti che riusciamo a rifarli all'aperto nel borgo e anche un po' al chiuso. Il pranzo e cena dedicato ad Harry Potter, quest'altro intrattenimento che partono le visite guidate anche di Paolo e Francesca, sul racconto affascinante di Paolo e Francesca. Insomma, le novità ci sono perché l'anno scorso l'abbiamo fatto in piccolo, 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 piccolo. Purtroppo, ma sappiamo tutti il motivo. Io devo dire che abbiamo visto già domenica che c'erano degli stranieri che si sono interessati. Io spero che vengano perché a sentire, comunque noi riceviamo tante, tante, tante telefonate da fuori. Adesso non so se sono proprio stranieri, comunque ci sono delle sorprese che secondo me ci saranno e io attendo degli stranieri verranno. Gli orari invece degli appuntamenti? Gli orari partono diciamo al mattino il racconto di Mino e il fantasmino, poi dal pomeriggio prestissimo partono tutti gli altri eventi, diciamo che copre tutto il giorno, dal mattino tarda, tardo, tarda, serata no, tardo pomeriggio. Grazie. 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 Grazie.